Sabato 24 luglio l'associazione Frida in prima linea ancora una volta per dire basta alla violenza sulle donne e lo fa in maniera atipica con un torneo di calcio. Sì, domenica 24 luglio ci incontreremo tutti presso l'arena sport di Pregiato a Cava dei Tirreni per giocare questo torneo di calcio. Ci saranno otto squadre che giocheranno tutta la giornata. Inizieremo dalla mattina alle 10 e finiremo poi per un piccolo stacco verso le 12 e mezza alle 13 e poi continueremo nel pomeriggio dalle 17 alle 20. L'obiettivo principale è quello proprio di sensibilizzare tutta la cittadinanza verso questo tema comunque molto importante che è la violenza sulle donne e tant'è vero che abbiamo cercato di coinvolgere sia uomini che donne che giocheranno in ogni squadra, almeno una donna per ogni squadra e poi almeno il primo gol che ci sarà durante le partite dovrà essere segnato da una donna, altrimenti non sarà convalidato. Per quanto riguarda la sera poi ci saranno le premiazioni delle squadre vincenti quindi della prima e della seconda classificata e poi della miglior giocatrice della giornata e infine ci sarà un piccolo buffet e un regalo, verrà dato un regalo ad ogni squadra partecipante nonché ai gadget, ad ogni membro di ogni squadra e poi ci saluteremo tutti insieme cercando di fare una piccola festa. Grazie